Manca solo l'ufficialità, ma la firma del Ministro della Salute Roberto Speranza per l'ingresso della Regione Emilia-Romagna in zona bianca, che dovrebbe arrivare in giornata, sembra ormai certa. A quel punto il decreto avrà decorrenza lunedì 14 giugno, con un abbattimento di varie limitazioni, anche se non tutte. Per entrare in zona bianca bisogna avere un numero di casi per 100.000 abitanti inferiore a 50 per tre settimane di seguito. Tutte le regioni italiane sono ampiamente sotto questa soglia e per 13 di queste dovrebbe scattare il cambio di colore. Segnali confortanti dal punto di vista dell'andamento della curva pandemica, li ha definiti ieri il Ministro, che oggi ha confermato che altre regioni entreranno in zona bianca. L'ultimo dato disponibile per l'Emilia-Romagna, che verrà valutato oggi dalla cabina di regia, è di 21,5 casi ogni 100.000 abitanti. Con l'ingresso in area bianca decadranno varie restrizioni, compreso il coprifuoco a mezzanotte, ma non tutte. Rimangono infatti obbligatori sia l'utilizzo della mascherina all'aperto che il distanziamento. Sarà possibile spostarsi verso altre località in zona bianca senza limiti di orario, mentre per comprovate motivazioni di lavoro, di salute o di necessità, ci si potrà spostare verso ogni altra località. Bar e ristoranti all'aperto non saranno più soggetti a limitazioni nel numero di persone ai tavoli, mentre per quelli al chiuso rimarrà al limite di sei persone al tavolo. Sarà prevista un'aderoga nel caso si tratti di due nuclei familiari. Vi è libera anche a banchetti per i matrimoni, perché tutti gli invitati presentino all'ingresso il Green Pass. Riapriranno anche le piscine coperti, centri benesseri, parchi a tema, le sale gioco e i centri sociali e culturali.